musica oddio si sta facendo la barba dentro la macchina oh mio dio io li faccio la coppia sesta puntata con benibè moltello nella sua 500 nuova che soldi benibè che soldi e per farsi questo primo piano si sta sbarbando, vestendo, truccando, non ti sei truccato ancora non sei ancora truccato oh mio dio che l'ho bello il suo staff, siamo pazzi l'ho chiamato un esterista per il piacere io sto registrando tutto eh io lo sto registrando devo mettere un backstage sto preparando un backstage favoloso e io devo ringraziare Antonio tutto questo eh che Antonio mi ha detto cura l'immagine mi raccomando altrimenti non possiamo spaccare e io sto curando l'immagine dobbiamo spaccare tutto però ciao 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 ciao